La notte del 28 settembre verrà compiuto un efferato omicillo, proprio qui, in queste stanze, nelle stanze del rettorato. Verrà uccisa la signora Libera Cultura e subito verranno individuati tre possibili sospetti. Potrete assistere al lavoro della Polizia scientifica e del medico legale, il nostro professor Gabrielli, sulla scena del crimine e potrete anche contribuire attivamente alla raccolta dall'analisi dei vari reperti ed anche alla verifica degli alibi. Tutto questo sarà possibile grazie alle indagini tecniche e scientifiche dei ricercatori dell'Università di Siena, in particolare i gruppi di Alessandro Donati, di Mirella Bruttini, Mauro Barni, di Giovanna Giorgetti. Alla conclusione delle vostre indagini dovrete presentare una formale accusa ad un giudice, il professor Baccari, che valuterà le vostre capacità di ricercatori sulla scena del crimine. Vi sarete più volte chiesti chi siano quegli uomini e quelle donne che intervengano con la tuta bianca ogni volta che è stato commesso un delitto? Bene, il 29 avrete la possibilità di vederli sul campo mentre operano, avrete la possibilità di entrare in questo ambiente segreto dove nessuno generalmente può accedere e partecipare attivamente sul campo insieme a loro alla ricerca delle tracce e degli elementi che possano far identificare l'autore del delitto. Bright 2017, un'occasione fortemente istruttiva e stimolante che ha permesso di unire la ricerca e l'investigazione scientifica.